Non bastava il coronavirus, adesso a destare la preoccupazione potrebbe esserci anche la legionella. Verifiche sono in corso infatti nel reparto di medicina interna Padiglione Frugoni del Policlinico di Bari per la presenza sospetta del batterio nell'acqua. A renderlo noto è la direzione generale del Policlinico comunicando che al momento non c'è nessun caso ufficiale ma a scopo precauzionale sei pazienti sono stati trasferiti in altri reparti. A seguito dei controlli dell'acqua effettuati all'interno del nosocomio barese scritto in una nota si è reso necessario avviare degli approfondimenti. Verifiche incrociate di Arpa Puglia e Policlinico infatti riportano valori di legionella differenti e proprio in presenza di tali valori anomali è necessario svolgere ulteriori esami. Per evitare di esporre i pazienti a possibili rischi di legionellosi, malattia che si trasmette per via aerea e che colpisce prevalentemente il sistema respiratorio con forme anche acute di polmonite, sono stati avviati interventi tecnici sull'impianto idrico. Tali lavori tuttavia non possono essere effettuati in presenza di dagenti e quindi se i pazienti sono stati trasferiti in altre aree della struttura sanitaria. Va specificato, fanno sapere dal Policlinico, che nel reparto non si sono ancora registrati i casi di legionellosi e che gli interventi di manutenzione sono effettuati solo ed esclusivamente a scopo precauzionale.